I giovani di Our Voice hanno parlato di rivoluzione, noi conosciamo varie rivoluzioni, conosciamo la rivoluzione, diciamo, guerra civile americana, la guerra di indipendenza americana che è stata una rivoluzione, la rivoluzione delle rivoluzioni che è quella francese, la rivoluzione dei giovani nel 68 che finita schifio, tutte queste rivoluzioni sono scaturite da un nuovo paradigma esistenziale, c'è qualcuno che ha pensato la rivoluzione d'ottobre in Russia da cui nasce la dittatura comunista o la notte dei lunghi coltelli in Germania da cui nasce il nazismo. Questi stravolgimenti sociali scaturiscono da nuovi concetti della vita, da nuove, noi le chiamiamo ideologie, quindi la rivoluzione non ci può essere se prima non c'è una nuova visione della vita. Nella stragrande maggioranza delle cose, praticamente tutte, le rivoluzioni sono sempre state violente, sanguinose e per il popolo non è cambiato nulla, sono cambiati solo quelli che stanno in cima, ma il popolo soffre sempre, non ne viene fuori e c'è un motivo, perché chi ha il potere nasconde al popolo l'informazione. Quindi oggi, siccome il popolo pensa, ragiona e ha gli stessi obiettivi dei ricchi, dei potenti, non ci può essere rivoluzione, abbiamo necessità di una nuova cultura, di una nuova visione della vita, di nuovi strumenti cognitivi. Siccome oggi i media del mondo sono in mano a sei gruppi di famiglie potentissime, che sono quelle che hanno le banche, l'informazione che ci viene data è quella che decide il potente e il potente ci dà una informazione finalizzata al mantenimento del suo potere. Per questo motivo oggi nove famiglie hanno in mano l'80% della ricchezza mondiale. Vi rendete conto, nove famiglie posseggono l'80% della ricchezza del mondo. Ce ne sarebbe per tutti. Forse lavoreremo tre ore al giorno. E invece questi diventano sempre più ricchi, perché hanno in mano tutti. Cioè c'è un dragaggio continuo di ricchezza dai poveri ai ricchi. Anche in Italia, eh? In Italia la percentuale è più o meno lo stessa. L'80% della ricchezza italiana è in mano a pochissime famiglie. Quindi la visita extraterrestre è proprio il desiderio di trasmetterci nuovi concetti culturali e scientifici affinché il popolo possa immaginare una vita e una società differente. Quindi oggi io parlerò di cose da un nuovo punto di vista. Parlerò di UFO, anche di storia degli UFO. Vedremo i filmati delle astronavi, ma forzatamente devo parlare anche di noi, società umana, per capire, non solo per vedere, capire. Perché ciò che gli extraterrestri vogliono non è che noi filmiamo le astronavi e poi ce le guardiamo e siamo felici. Soprattutto loro vogliono e desiderano darci una nuova visione della vita, una nuova scienza. Quindi devo fare dei discorsi che abbracciano vari ambiti della nostra cultura, ambiti consolidati come ad esempio quello religioso. Ma da un diverso punto di vista. Ora sono discorsi delicati, quindi succede spesso che le persone si sentono aggredite nella loro visione della vita e dentro di loro incominciano a dire, ah ma no, ma questo non è possibile, ma questo signore è un pazzo. Ma cosa sta dicendo? No, è blasfemo, sta bestemmiando. Magari lo bruciamo un po'. Un tempo si faceva, ogni tanto qualcuno veniva un po' bruciato. Giordano Bruno, vi ricordate, no? Io non voglio imporre nessun cambiamento, voglio semplicemente farvi un racconto. La favola di Capucetto Rosso e il lupo cattivo. Quindi vi prego, anche se io dico cose che vi urtano, non incominciate dentro di voi a dire no, 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 perché se fate così non ascoltate quello che ho da dire, perché io cercherò di spiegare tutto, ma ho bisogno di tempo, perché devo affrontare cose molto complicate che abbattono visioni della vita consolidate da secoli. Quindi è molto difficile riuscire ad assorbire, quindi non voglio cambiare il vostro punto di vista, non vi voglio condizionare, voglio semplicemente oggi raccontarvi delle cose che forse non sentirete mai più da nessun altro, perché siccome sono un ricercatore internazionale, conosco i ricercatori internazionali, la maggior parte di quello che io vi racconto non ne sanno niente. Si parlano di UFO, di casi, investigazioni, ma ciò che a me è stato spiegato è molto più importante, riguarda noi, non riguarda loro lassù. Quindi vi racconto una favola, prendetela così, oggi ci facciamo questo viaggio fantascientifico, io vi racconto delle cose, non vi sentite urtati, non è mia intenzione urtarvi, scandalizzarvi, voglio semplicemente raccontare, raccontare, spiegare. Quindi un nuovo punto di vista, vedete questa è una bellissima foto, peccato che con la luce non si vede tanto bene, è stata scattata pochissimo tempo fa dalla considerevole distanza di 63 milioni di chilometri dal pianeta Terra, dalla sonda Osiris-Rex. Questa è la Terra e questa è la Luna. La Luna si trova a 400 mila chilometri di distanza dalla Terra, qui sembrano appiccicate, qui c'è il piccolo carro, lo vedete? E poi ci sono tutte le stelle intorno. Ecco, da 63 milioni di chilometri, tutto sommato non siamo così importanti nella creazione, non siamo così centrali nella creazione, siamo un piccolo pianeta, piccolissimo, intorno al quale orbita il satellite Luna, nella periferia della galassia chiamata Via Lattea. Noi siamo nella periferia, manco nel centro noi ci sentiamo così importanti, siamo in periferia della Via Lattea. Quindi da questa prospettiva tutti i nostri grandi problemi assumono un'altra proporzione. E c'è un problema però, che vicino non c'è un altro luogo dove noi possiamo andare. E questo pianeta lo stiamo distruggendo.